Musica Oggi parliamo di scuola, ci spostiamo alla Dispoli precisamente all'istituto comprensivo Corrado Melone Lo facciamo con il dirigente scolastico che andiamo a salutare Riccardo Agresti Buon poveriggio, bentornato Salve, buon poveriggio E con un genitore, andiamola a salutare Fabio Rigucci Buon poveriggio Buon poveriggio Preside, come sempre una Corrado Melone che si rimbocca le maniche 365 giorni all'anno Sono veramente numerose le iniziative che vedono coinvolti i docenti, i ragazzi e anche i genitori Addirittura tantissimi gemellaggi messi in piedi e fra poco ne parte uno anche oltreoceano Sì esatto, sono delle maestre molto in gamba, stanno lavorando con bambini di terza elementare Hanno già avuto i contatti con una scuola di Filadelfia di pari età Già si scambiano, quindi un pen pal, scambiano oggetti, scritti, informazioni Hanno fatto già delle chiamate via Skype e noi speriamo di riuscire a fare proprio uno scambio fisico Per cui ospitare qualche bambino di Filadelfia e mandare i nostri in America Come iniziano questi scambi culturali con altre scuole? Nell'ambito di che progetto? Sì, sì, intanto dalla volontà dei docenti, cioè in effetti chi ha voglia di mettersi in gioco Perché è un lavoro enorme da parte loro e cose del genere e chi meno E in questo caso si gira sul web, si cercano scuole, si prendono contatti, si mandano mail E a questo punto se c'è un buon feeling fra docente della nostra scuola e docente dell'altra scuola Si parte e si comincia quindi prima con messaggi, prima con contatti fra i ragazzi E poi si tenta proprio un contatto fisico E noi già lo stiamo facendo da anni con Olanda e Francia Abbiamo iniziato con la Germania quattro anni fa Quest'anno partiremo con la Spagna E abbiamo adesso questa cosa eccitante del contatto con una scuola di Filadelfia Ecco, io da genitore, non sono genitore, ma mi metto nei panni di un genitore Che si vede bersagliato da questo preside con numerose iniziative che vedono coinvolti i propri figli Quali sono le reazioni dei genitori a queste notizie? Diciamo non solo, perché noi nel senso buono della parola Dal preside agresti siamo bersagliati anche dalle mail Che non arriva nei orari normali Che non arriva nei orari normali Ora lui riuscirà perché lui ha sempre garantito che risponde entro le due di notte E effettivamente quello accade E diciamo per quanto mi riguarda proprio questa dinamicità del nostro preside Per lo meno ha veicolato le mie scelte verso la Meloni Io ho un figlio che frequenta la prima media E viene peraltro da un altro istituto che già negli ultimi due anni Era un istituto che vedeva come reggente il preside agresti Noi come la prendiamo? Per lo meno, ripeto, per quello che mi riguarda la prendo in modo estremamente positivo Perché ci sono mille iniziative che quindi vanno a soddisfare tutte le necessità E tutte le preferenze o tutto ciò che un ragazzo può desiderare Dal profilo sportivo al profilo didattico Riccardo tiene aperta o meglio a considerazione di tutti i suggerimenti E di tutte le opportunità che gli vengono proposte Solo a titolo esemplificativo posso dire che Fra le mille iniziative che Riccardo ha proposto E che trovano poi che si concretizzano Ce ne saranno alcune E adesso anche perché ospiteremo degli attori Ospiteremo dei ballerini famosi della RAI Ospiteremo proprio per proporre Anzi ne parlavo proprio ieri Cercheremo di fare anche dei progetti di varie discipline sportive Come la scherma, come il pugilato Per cui che le dico Da quello, io all'inizio dell'anno Come dire, non credevo neanche che si potesse arrivare a tanto Ma è impegnato 24 ore su 24 per la scuola E questo non può che far piacere Il problema è che purtroppo Siamo limitati Siamo limitati noi come genitori nella collaborazione con la scuola E lui come dirigente di una scuola A causa delle scarse risorse che ormai oggi arrivano nelle scuole E quindi tutto quello che si può fare io credo che si faccia Noi adesso offriamo una collaborazione Evidenziamo anche delle criticità Perché io spesso scrivo a Riccardo Su vari argomenti dove non trovo chiare delle cose Oppure ho dei dubbi E lui risponde sempre in modo obiettivo Perché devo riconoscerle anche questo E lui ha torto o ha ragione Insomma lui risponde alle mail E si assume le responsabilità sempre di ciò che fa Poi diciamo ecco appunto La trasparenza può essere anche Anzi sicuramente è uno dei privilegi di questa scuola Del dirigente Perché nella buona o nella cattiva sorte Qualsiasi cosa accade all'interno della Corrado Melone Che può essere anche oggetto di articoli di giornale Piuttosto che di servizi C'è sempre dall'altra parte Chi è pronto ad assumersi le proprie responsabilità E a raccontare che cosa è accaduto Non ci si nasconde dietro a un no comment Oppure non lo so No ma specialmente non ci si nasconde neanche dietro A ciò che la legge prevede Nel senso che è proprio di ieri Un'uscita di una mail Cioè una mail che ho fatto io da Riccardo Riguarda le sospensioni Nonostante queste siano regolate da decreti specifici E quindi dallo Stato Dal MIUR insomma dal Ministero Quindi basterebbe uno applicasse ciò che è detto E non avrebbe problemi Riccardo è quello che fa Ma nonostante si faccia quello Nascono comunque delle polemiche Perché lei immagina un genitore che vede sospeso Un ragazzo, un figlio di 11 anni Bambini anche più piccoli delle scuole elementari Che come impatto uno potrebbe pensare A qualcosa di assurdo Ma invece spiegando e chiedendo a Riccardo C'è una motivazione Ci sono delle motivazioni che portano anche a quello E giustificano anche a quello Quindi questa trasparenza va al di là Ripeto delle regole che si applicano Cioè va anche nella spiegazione di queste regole E perché talvolta si devono fare delle azioni O assumersi delle responsabilità Che sembrerebbero particolari Diciamo Torniamo agli attori che vengono in visita alla scuola Abbiamo nominato attori della RAI Anche ballerini Riccardo prima diceva Ballando con le stelle Che tipo di progetto è? Ma diciamo questo qui è uno degli ultimi progetti O comunque una delle ultime aspirazioni Nel senso che Collaborando, ecco Cercando di collaborare con la scuola E avendo la possibilità di venire in contatto Con alcuni personaggi E cercheremo magari di far venire nella scuola Perché già ci hanno dato la loro adesione Praticamente Ballerini del calibro Ballerini comunque del calibro di forse Samuel Peronne O addirittura Millie Carlucci Che Potranno venire nella scuola Corrado Meloni Incontrare le classi E spiegare Ecco questo Qual è Come dire Il ruolo della danza O quale potrebbe essere Il ruolo della danza Del ballo In una società moderna Per dei ragazzi giovani Per degli adolescenti Cose del genere Ma Riccardo stiamo aspettando anche Voglio dire attori del calibro di Carlo Verdone Nella nostra scuola Ospita politici di fama nazionale Internazionale Come ospita sportivi Di fama nazionale e internazionale Insomma è veramente una scuola dinamica Ecco i ragazzi Che cosa dicono Alla vista di tutte queste celebrità Che passano tra le aule Quali sono le domande Che spesso vengono fatte dai bambini Le domande sono incredibili E sono incredibili soprattutto Per la loro intelligenza E la profondità Ne tiro una fuori a caso Perché ce ne sono tantissime E tutte veramente molto profonde Quando è venuto Caspar Capparoni a scuola Una ragazza le ha chiesto Ma scusi È importante la bellezza Per un attore Per fare carriera La risposta è stata molto carina La possiamo immaginare O meglio Certe cose non sono state dette lì Perché poi lasciamo perdere Però ho detto tre cose molto giuste Che Capparoni Che è l'intelligenza Quella che copre E poi la bellezza Una può essere bellissima Poi se non è in grado Di trasmettere emozioni Per un attore questo è importantissimo Non si annulla Con la semplice bellezza Ma insomma Sono tante domande Profondissime Chi andranno Chi andranno ad incontrare Ovviamente Non si tratta di semplici incontri Prima di questi incontri I docenti in classe Preparano i ragazzi Fanno ricerche Cercono di comprendere Chi è la persona Che sta arrivando Perché poi i ragazzi Non è che conoscono tutti Sia I elettori magari sì Ma magari i politici no Oppure altre situazioni istituzionali Magari non le conoscono Quindi c'è una preparazione prima Io immagino anche a casa Perché certe domande Mi danno l'impressione Che siano pilotate da casa I genitori Quindi coinvolti anche loro In questo lavoro E poi c'è il lavoro Ovviamente durante l'incontro Di confronto diretto Ma il lavoro successivo Che porta Praticamente sempre All'elaborazione di un lavoro Che per fortuna Viene pubblicato Dai giornali locali E dà molte gratificazioni ai ragazzi Sì perché anziché La Corrado Melone Fare lui Il dirigente O gli insegnanti Il comunicato stampa Lo lasciano ai ragazzi Esatto Non avrebbe senso Un comunicato stampa Perché il nostro obiettivo Come scuola Non è quello di farci conoscere Ma io stesso Non è che voglio essere simpatico Non è il mio mestiere Non devo fare la politica E quindi non mi interessa Essere simpatico Quello che mi interessa È che i ragazzi Apprendano e crescano E quindi è ben giusto Che siano loro a lavorare A fare dei comunicati Piuttosto che non io Tanto il mio stipendio è uguale Sia che ho lavori Che non lavori I commenti Quando tornano a casa Questi ragazzi Dopo gli incontri Gli incontri a scuola Guardi Diciamo che i ragazzi Per quanto riguarda mio figlio Credo che in questa fase della vita Passino La fase più riservata Parlano poco Parlano poco Quindi devono essere Io se volessi proprio conoscere Come è andata una giornata Il mio figlio Dovrei fare un sondaggio Con almeno dieci compagni Perché ognuno ti dice Una cosa che l'ha colpito Ognuno dice Quello che vuole dire Come per esempio Può immaginare Le note quelle Che qualche professore Mette sul registro Si evitano Non si vengono proprio a sapere Se non noi genitori Che adesso Scegliamo a registro elettronico Questa buona trovata O bisognerà aspettare L'incontro Docenti genitori Per venire Esatto E poi vieni a sapere Che hanno svolto Che hanno svolto Magari un progetto Ora io Esaspero un po' Fisico Quindi ragazzi Che si spostano In Spagna Piuttosto che in America E viceversa Sì quello è proprio ciò Che prevede Questo scambio di ragazzi Questa reciprocità Fra paesi E a me piacerebbe molto Che oltre che la collaborazione Che le enunciava Fra genitori Famiglie e scuola Ci fosse anche la collaborazione Magari del comune O delle regioni O dello Stato Certo Perché magari questi progetti Si potessero affinare Magari prendere anche Come dire Più corpo Estenderli O magari anche nella qualità Perché ripeto Qui bene E sappiamo benissimo Che di anno in anno Queste risorse diventano Sempre più Esigue Diciamo nulla Praticamente Faccio un esempio banale Anche come confronto Con le altre nazioni Noi siamo partecipanti A un progetto RASBUS In questo caso Un'indica comunità europea Che sta pagando Tutte le spese Bene I primi viaggi Che hanno fatto I nostri professori I nostri ragazzi L'ultima volta è stata In Spagna Mi sembra E hanno mostrato Hanno fatto dei filmati Ecco Noi ci siamo presentati Una presentazione powerpoint Fatta dai ragazzi Loro sono presentati Con dei filmati A livello professionistico Ovviamente immagino Fatto nemmeno da professori Ma da persone esterne Per questo ci vogliono dei soldi Noi questo non l'abbiamo Per cui i nostri professori Però da italiani Non vogliono essere Al di sotto Della Polonia Della Francia E della Spagna Hanno già deciso Di autodassarsi Pagare dei professionisti E fare un lavoro Sulla Dispoli Sulla scuola E presentarla quindi all'estero Facendo fare una bella figura Anche all'Italia Rispetto alle attenuazioni europee Ricordiamo un po' Quando si parte Per la Spagna Per la Spagna Dovrebbe essere Adesso I primi di marzo Stiamo parlando di domenica Il numero non me lo ricordo La prima domenica di marzo Parliamo sempre Di ragazzi delle scuole medie Esatto Esatto In questo caso Mentre per i più piccoli Esperienze Erasmus Un po' più vicine Magari si potrebbero pensare Si potrebbero pensare Per il momento Ancora non c'è nulla In ballo A parte appunto Questa degli Stati Uniti Però ancora no Anche perché Noi come scuola Come Melone Siamo piccoli Per quanto riguarda la primaria Abbiamo soltanto 11 classi Noi siamo nati in realtà Come scuola media Eravamo la scuola più grande D'Italia Come scuola secondaria Di primo grado Poi con il dimensionamento La legge Gelmini Si è ridimensionato tutto E abbiamo cominciato A cogliere la primaria Per cui noi siamo piccolini Cresceremo Come dice la canzone Prego volevi dire qualcosa Io volevo solo dire Sorridevo perché Io ho partecipato per anni Sono stato un membro Del consiglio d'istituto E quando si parlava Di gite scolastiche Per i bambini Quelli piccoli Delle elementari Io ero sempre uno di quelli Che votavo di no Perché la pensione Da genitore Non riuscivo a immaginare Il mio figlio Andare oltre una giornata Oltre una giornata E oltre 50 km E ho proprio stabilito Io quello Dico nella mia mente Dico oltre 50 km Non mi sembra opportuno Che i bambini piccoli Vadano Però poi fortunatamente C'è Riccardo Che magari è un po' Più di ampie vedute Quindi si organizzano Ci sono delle inesidevi Anche per gite Tutte queste sfaccettature Gli adegui Perché loro si devono lamare Perché loro I bambini Devono allacciarsi Da scarpe da solo E il bambino Deve portare la borsa Che pesa 20 kg Il bambino Deve dormire da solo E io guardavo E dicevo Perché? E ho detto Chi l'ha dettata Questa regola? Perché non mi posso Godere i bambini? Ora lasciamo perdere In un discorso psicologico Pediatrico Eccetera Dove ti dicono Che i bambini Hanno delle fasi di crescita E ogni fase Andrebbe rispettata Invece oggi C'è questa corsa A farli crescere subito No? E invece Prima noi Fino a 12-13 anni Giocavamo Lei magari è giovane Ma Riccardo lo ricorderà Si giocava magari Con le figurine O con dei giochi semplici Oggi invece Questi ragazzi Sono già cresciuti Usano il computer Meglio di noi E quindi Piva Dio Se mio figlio Riuscisse a guardare I cartoni animati Fino a 10-11-12 anni Magari vuol dire Che gli ho regalato Ancora un po' di infanzia E magari un domani Lo riconoscerà E che forse lo sport Sport anche che va All'interno delle scuole Potrebbe essere Un buon veicolo Per staccarli Non tanto Ma il giusto L'indispensabile Da questo mondo Iper tecnologico Che vuole dei bambini Già grandi Da piccoli Si esattamente Sarebbe bene Però quello Ritorniamo sempre A questo Serpente Che si mangia la coda Questi fondi Che non ci sono Quindi Praticamente Le scuole Le palestre Di parecchie scuole La mattina Sono occupate Dai ragazzi Della scuola Il pomeriggio Sono occupate Dalle associazioni sportive La sera Sono occupati Da degli altri progetti Di ragazzi Magari disabili Cioè le immagini A sostegno A sostegno Di questi ragazzi Che ricordiamoli Saranno il nostro futuro Magari saranno i politici Di domani Magari non come quelli di oggi Speriamo non come quelli di oggi Ma che riusciranno A portare sicuramente Maggiore sensibilità Anche in questi settori Io vi ringrazio Per essere stati Mie ospiti Spero di rivedervi presto Anche perché no A parlare di sport La ringrazio molto Ancora grazie E invece a quei telespettatori Ci vediamo Subito dopo la sigla